Massimiliano Giano si dimette da Presidente della Commissione d'Indagini sui Servizi Sociali istituita con deliberazione numero 14 del 26 febbraio 2021 dal Consiglio Comunale Brindisino. Una situazione di stallo politico, una difficoltà nel reperire i dati necessari per il lavoro da svolgere. Queste le motivazioni spiegate dallo stesso Giano. Ho preso consapevolezza del fatto che questa Commissione già è nata in maniera condizionata, depotenziata dal fatto che alcune forze politiche hanno preferito non partecipare alla stessa. Poi il periodo del Covid, una certa riottosità da parte degli uffici a collaborare. Mi ha portato a questa decisione, continueremo a fare la nostra attività di controllo, di monitoraggio, così come abbiamo fatto finora, perché molte criticità incombono sul comparto dei servizi sociali, soprattutto quelli di ambito, che sono sempre soggetti a continue proroghe. Il consorzio che doveva nascere è nato, ma ancora stenta a decodolare, più per motivi e problemi di natura di equilibri politici e di assegnazioni di poltrone, di incarico al proprio interno, si continuano a produrre provvedimenti illegittimi, come aumenti di valore economico, di appalti di servizi in sede di proroga. Si rinuncia a dei servizi importanti come il servizio ADI e SAD durante la pandemia, salvo poi rimetterli in sesto, ma creando non pochi problemi sia agli utenti che ai lavoratori stessi.